Dal logo simbolo dell'abbandono al regno di bigiotteria e accessori moda, l'area ex Seves, dove sorgeva lo stabilimento di mattoni in vetro cemento, che ha chiuso e si è trasferito in un altro paese, rinasce grazie alla generosità della famiglia fiorentina Pinza Uti, che trasferirà entro quattro anni a Sesto Fiorentino la propria azienda. Vedere tutti qui riuniti in uno spazio così grande ci rende molto felici. Una delle poche aree rimaste nel comune di Firenze, quindi noi si voleva rimanere fiorentini, e pertanto siamo qui come fiorentini, a rioccupare quest'area e renderla viva come era prima. Appena sono entrato qui mi è venuto un tuffo al cuore, perché ho ricordato quei giorni drammatici del 2009 quando capimmo che non ci sarebbe stato più futuro per la Seves. Oggi a distanza di quasi dieci anni, sapere che qui rinascerà un centro di produzione di eccellenza nel settore manifatturiero, in particolare nella moda, credo che sia la gioia più grande che possa avere un sindaco. Un'operazione lunga e delicata, portata avanti con forza anche dal comune di Firenze, che grazie al vincolo di destinazione è riuscita a mantenere e rilanciare la vocazione industriale del quartiere nel segno della manifattura fiorentina e toscana. Dieci anni fa quando noi annunciamo a tutta la città che non avremmo mai levato il vincolo di destinazione industriale e non ci saremmo mai abbandonati a operazioni di speculazione immobiliare, molti ci attaccavano dicendo che avremmo lasciato all'abbandono per sempre quest'area. Oggi i fatti dimostrano che abbiamo avuto ragione.